Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto Le avventure del gatto del West dell'episodio numero 15 Il ritorno a casa Una volta che Guglielmo imparò che non era la popolarità a rendere i gatti migliori ma era ricevere affetto dalla propria famiglia egli ritornò dai gatti randaggi che rivedendolo gli domandarono se aveva trionfato su Tabby il gatto superstar Guglielmo rispose Non precisamente Ragazzi dovete sapere che affrontando Tabby ho imparato finalmente che non è la popolarità felina a renderci migliori ma è ricevere affetto dalla propria famiglia come per voi le persone della Caritas quindi ora che ho compreso meglio la situazione per ripagare ciò che mi avete insegnato vi restituisco i vostri abiti così potrete usarli per proteggervi dal freddo in inverno Orazio e il resto di gatti randaggi felici che Guglielmo aveva riconosciuto il vero valore felino lo ringraziarono lasciandolo tornare felici a casa che rivedendo la sua padroncina Marta corse in fretta da lei promettendole che non sarebbe più scappato di casa mentre Marta gli promise che non l'avrebbe più lasciato solo e gli avrebbe dato più attenzioni trascorrendo una felice serata insieme questo è il disegno bene vi ringrazio dall'ascolto lasciate un like se vi è piaciuto grazie alla prossima ciao da Davide ciao buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale continuiamo oggi nella lettura del mio racconto le avventure del gatto del West dell'episodio numero 16 una serata indimenticabile una volta che Guglielmo ritornò a casa e Marta gli promise che gli avrebbe dedicato più attenzioni passando una piacevole serata insieme arrivarono le ore 20 e Marta vedendo le stelle dalla sua cameretta decise di portarsi a letto il suo gatto Guglielmo per poter ammirare il chiaro di luna e le varie costellazioni con lui portato a letto Marta aprendo la finestra fece vedere al suo gatto numerosi corpi celesti tra cui Orione l'orsa minore l'orsa maggiore e molto altro finché Guglielmo e Marta vede una stella cadente precipitare nella pianura Everwest infatti quella sera si prevedeva che ci fossero le stelle cadenti essi però per uno strano motivo sembravano tutte attratte da quella pianura così Marta conoscendo un mito su quella valle presi dal suo comunino un libro che parlava sulle leggende della pianura Everwest decidendo di raccontarla al suo gatto molte strane leggende si narrano nella pianura Everwest ma non tutte sono famose quanto la storia della Lopunni una lepre bipede che durante il chiaro di luna esce dalla sua tana compiendo acrobassie e molto altro inoltre si narra che quando arriva il giorno della caduta delle stelle cadenti la Lopunni stia in piedi con le zampe superiori in avanti pronta e paziente per raccogliere una stella se la Lopunni riuscisse per miracolo nel suo intento ti verrebbe totalmente di color bianco panna lasciando dietro di sé una scia di stelle mentre esegue i suoi saltelli quotidiani cui elmo dopo aver ascoltato con attenzione una nuova storia della Lopunni si addormento accanto a Marta orgoglioso di aver conosciuto di persona la mitica lepre questo è il disegno bene vi ringrazio dell'ascolto lasciate un like se vi è piaciuto grazie alla prossima ciao da Davide ciao ciao